A Palazzo Bastoggi è stato presentato il bilancio di 5 anni di attività del Coricom, il Comitato regionale per la comunicazione. Dal 2017 al 2022 sono state molte le iniziative portate avanti, afferma il Presidente Broggi, abbiamo provato a modificare il modo di comunicare il nostro lavoro. Siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi, cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa, qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini e aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti, errori e ritardi di comunicazione, ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti, in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale. Io ho la barba bianca, vengo da una generazione che si diceva si rinnova sempre nella continuità. Il segnale lo è oggi intitolando questa sala che è la sala dell'accoglienza al primo Presidente del Coricom che era il Professor Omar Calabresi, semiologo, critico cinematografico, televisivo, una grande persona che ha dato un impulso fortissimo al Coricom, alle persone che vi hanno lavorato. Da lì siamo partiti, cerchiamo di portare avanti e sono sicuro che chi ci seguirà saprà dare un contributo ancora maggiore. Soddisfatto del lavoro svolto anche il Presidente delle Consiglie, Antonio Mazzeo, il quale sottolinea come il Coricom oggi abbia voltato pagina, sia cresciuto e sia riuscito ad essere sempre più vicino alle istanze dei cittadini. Grazie ad Enzo Brogi oggi possiamo dire che il Coricom ha voltato pagina, è cresciuto ed è riuscito sempre più ad essere vicino alle istanze dei cittadini. Tanti i progetti importanti, penso alla Toscana che fa bene, rivolta al mondo del volontariato, alle buone pratiche di comunicazione, oppure l'attenzione rivolta ai giovani, ai social network, a come si comunica oggi. Il modo di comunicare oggi richiede grande attenzione, una grande cultura perché è vero, la rete è un luogo di grande opportunità ma è anche un luogo in cui le ragazze e i ragazzi possono trovare pericoli. Allora il compito delle istituzioni è quello di formare ragazze e ragazze che sappiano utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione. E la legge regionale è approvata e il riconoscimento di questo grande lavoro. Mi auguro che il Corecom, che verrà eletto nelle prossime ore, possa procedere in continuità con l'ottimo lavoro portato avanti perché la Toscana ha bisogno sempre di più comunicazione libera e più c'è comunicazione e più c'è libertà. Bianca Maria Giocoli, Biagio De Presbiteris, Benedetta Baldi e Carlotta Agostini Il Consiglio regionale elegge i quattro nuovi membri del Corecom che resteranno in carica per i prossimi cinque anni. Il quinto, ultimo membro e presidente verrà invece nominato nelle prossime settimane in accordo tra il presidente della Giunta e quello del Consiglio. I quattro nominativi sono stati scelti da una rosa di sei nomi arrivata al Consiglio regionale. Per il LEPID si tratta di nomi di alto profilo. Sono quattro figure con competenze varie, tutte attinenti alle attività del Corecom, avvocati che si sono occupati di vertenze e di controversie relative al tema delle telecomunicazioni e dell'informazione. Ci sono docenti universitari come la professoressa Baldi che hanno una competenza specifica sui temi della comunicazione, pur essendo lei una linguista o giornalisti. Quindi siamo soddisfatti. Una rosa di nomi che credo potrà bene, integrandosi, portare avanti le politiche del Corecom nei prossimi anni. La funzione di garanzia è fondamentale, ma in più il Corecom, nello scorso mandato, ha esercitato un'importante funzione educativa e formativa, collaborando con le scuole e diffondendo il progetto del patentino digitale che insegna ai ragazzi come abitare lo spazio virtuale, lo spazio dei social, della rete. Spero che il prossimo Corecom continuerà ad essere proattivo e attivo in questi campi, oltre a svolgere le attività che gli sono deputate per legge. Positivo anche il giudizio espresso dai consiglieri del centrodestra. Un giudizio positivo, io mi riferisco principalmente alla figura che noi avevamo presentato, che è quella della professoressa Baldi, una figura che ha delle grandi competenze in materia di comunicazione, di Corecom, di gestione appunto della materia e quindi siamo fieri di averla presentata, di averla votata e di trovarla oggi all'interno della compagine del Corecom. Abbiamo avuto modo di vedere anche gli altri curriculum, siamo fiduciosi sperando che il Corecom possa appunto riprendere il volo che merita, anche se negli ultimi anni ha fatto delle modifiche importanti dall'ex presidente, però non è mai troppo. Io conosco i due nominati dal centrodestra che sono due donne, Benedetta Baldi e Carlotta Agostini, due professioniste esemplari, note in città per motivi differenti. Carlotta ha fatto per tanti anni la giornalista, Benedetta Baldi mi dicono di essere una docente apprezzata nel suo campo, quindi ovviamente a loro due, due in bocca al lupo, ma in bocca al lupo anche agli altri due eletti, tra l'altro nelle fide del centro-sinistra è stata eletta Bianca Maria Giocoli che qualche anno fa nella sua precedente vita, quando era ancora di centrodestra, ha fatto pure la consigliera comunale con me, quindi faccio un in bocca al lupo volentieri. Ma la nomina apre un fronte di polemica all'interno della maggioranza. Italia Viva, che non ha visto eletto il nome proposto, chiede a questo punto una verifica di maggioranza. Ma è un fatto molto grave, per la prima volta nella storia della regione toscana un partito di governo che esprime maggioranza in questa regione non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia, su un settore molto delicato come quello dell'informazione, della comunicazione, dei rapporti con il mondo esterno e questo crea un precedente, un precedente e riteniamo che il Partito Democratico abbia assunto e svolto con arroganza la presunzione di arrogarsi tutti i posti fondamentalmente disponibili e questo è un po' in controtendenza con il fatto che più perde i voti il Partito Democratico più vuole occupare poltrone. A noi non appartiene questo modo di fare politica. Ma voi vi considerate ancora una forza della coalizione di maggioranza? Ma Italia Viva sta nella maggioranza di governo se questa regione vuole proseguire sugli impegni che aveva assunto. In questo momento mi sembra che stiano mancando questi impegni. Il Presidente Gianni e il Partito Democratico stanno decidendo in questa fase di fare un percorso autonomo. Questo ovviamente comporterà delle valutazioni che faremo nelle prossime ore, lo faremo in maniera molto trasparente nei loro confronti e credo che quindi non possa essere rinviato un confronto nell'ambito del quale si possa valutare o meno il proseguo di questa esperienza di governo congiunta. Il PD replica per bocca del capogruppo in Consiglio regionale. Noi siamo sempre disponibili al confronto, ci piace confrontarci soprattutto nel merito delle questioni, delle soluzioni, dei progetti che riguardano il territorio toscano e che riguardano la comunità toscana. Questo atteggiamento e questa uscita sinceramente sorprende, non comprendo se è legata all'elezione dei membri del Corecom, dove sono stati comunque eletti ed elette delle persone molto competenti nel rispetto di tutti gli accordi. Quindi noi non abbiamo mai nessun problema e siamo sempre disponibili ad un confronto. Non è però la prima volta che Italia Viva si smarca dalle decisioni della maggioranza? Quando andremo al confronto gli chiederemo conto anche di questo e credo che poi potremo trovare quell'assetto e trovare tutte quelle soluzioni che, ripeto, devono servire alla toscana per il suo sviluppo. Per le forze di centrodestra questa è l'ennesima lite all'interno della maggioranza. Non passa consiglio regionale che Italia Viva è il PD, se le cantano e se le suonano di santa ragione in aula. Un presidente di regione che è forte delle proprie posizioni, che sia sicuro, qualora vi fossero nuove elezioni, di essere confermato, accetterebbe mai che il suo vice, come è successo in Toscana con Gianni e la Saccardi, che il suo vice faccia parte di un partito che gliene dice tutti i colori tutti i giorni, che quando arrivano le elezioni politiche si candida contro il PD e fa una campagna elettorale esclusivamente contro il PD, poi finiscono le elezioni e si siedono accanto e governano insieme. Evidentemente la consapevolezza del Partito Democratico è che se oggi dovessimo tornare alle elezioni in Toscana il destino è scritto e i cinque anni di opposizione non li toglie nessuno. Quindi pur di campare accettano anche di prendere gli schiaffi d'Italia Viva. Io penso che il terreno delle votazioni del Coricom sia l'ennesimo segnale di una maggioranza che effettivamente denota molti segnali di insofferenza. Io credo che chi è stato eletto naturalmente sono tutte persone alle quali va personalmente il mio auguro di buon lavoro. In realtà su questa elezione appunto si misurava la tenuta di un accordo che comunque è quello di coalizione che su cui oggi si regge la maggioranza regionale. Evidentemente visto che Italia Viva presentava un proprio candidato c'è qualcosa che non ha funzionato nell'ambito degli accordi di maggioranza. Quindi io credo che sia un dovere da parte di chi si è presentato ai cittadini toscani con un programma e con una coalizione dare delle risposte ed andare uniti fin dove si può. Quando invece comincia la tenuta della maggioranza comincia a schiccolare io credo che sia doveroso fare una verifica per capire se si può andare avanti insieme. Altrimenti naturalmente in questi casi la parola torna ai cittadini toscani. Una Giulia Meoni visibilmente emozionata ha ricevuto una targa di riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana per il terzo posto ai mondiali di Agility Dog raggiunto come sottolineato dalla giovane grazie al suo amico Hammer. Un premio questo afferma il presidente Mazzeo dovuto e si presenta come un augurio per il raggiungimento di un obiettivo ancora più importante, quello dei mondiali. Tutto premiare i giovani è sempre bello, premiare il sorriso di Giulia Meoni ancora di più, sapere che c'è esiste una simbiosi così forte tra una ragazza così giovane e Hammer è qualcosa di stupendo. Io mi auguro che questo sia solo l'inizio, è un modo per dire forza Giulia, vai avanti e noi speriamo di rivederla campionessa del mondo qui in Toscana. Il vicepresidente del Consiglio Casucci afferma come questo risultato porti onore a Cortona e quindi a tutta la Toscana. Sono contento di avere promosso il riconoscimento di questa bellissima targa per Giulia Meoni del territorio di Cortona, il mio territorio, per un sport poco conosciuto ma che di fatto è il principale sport cinofilo. Gli sport cosiddetti minori, che minori non sono, abbiamo visto che bel momento abbiamo vissuto in Consiglio regionale, che meritano di essere ulteriormente conosciuti e apprezzati dal grande pubblico. Tutti ci auguriamo che Giulia Meoni possa diventare campione del mondo della sua disciplina. Quello che mi sento però di augurarle ancora di più dal cuore e di rimanere quella che è, lo dimostra il rapporto di fiducia, di complicità, la simbiosi con il suo cagnolino Hammer ed è questo il bello della vita. Pittura e scienza è formata da due parole, pittura e coscienza. È una pittura che ha a che fare con una ricerca di sé attraverso la consapevolezza, quindi una coscienza come consapevolezza. Essere consapevoli ci rende liberi, liberi di scegliere. Questo è il significato di pittura e scienza. Così Maria Cristina Conti racconta il proprio rapporto con la pittura. Nello spazio espositivo Ciampi, di Palazzo del Pegaso a Firenze, ha preso il via alla mostra Pitture e scienza, la metamorfosi. Resterà aperta sino al prossimo 19 novembre. Quadri che giocano sull'accostamento cromatico e che ci portano in una dimensione spirituale, come commenta anche il critico d'arte Andrea Baffoni. Maria Cristina riattualizza una tecnica e un linguaggio che è il gestualismo, qualche cosa che ha a che fare con l'informale, nato ormai intorno agli anni 50, e però lo riattualizza attraverso questo neologismo, pittura e scienza, perché trasferisce la pittura in una dimensione filosofica. Quindi il suo paesaggismo, che di fatto nasce come rappresentazione della natura, diventa mentale, diventa astratto e soprattutto diventa spirituale. Quindi in qualche modo quell'idea di gestualità della pittura, che scaturisce dall'interiorità spirituale dell'artista, si fa strada e inizia in qualche modo ad alternare questa gestualità potente, intensa, di colore spesso e grumoso, con l'idea di andare oltre la pittura e soprattutto oltre la materia e quindi verso lo spirito. Al taglio del nastro era presente il presidente del Consiglio regionale della Toscana. Felice di essere oggi qui a poter inaugurare questa mostra. L'Expo Ciampi è un luogo in cui noi vogliamo investire in cultura. L'Expo Ciampi è un luogo in cui noi vogliamo investire in cultura.